Produco vini senza solfiti da praticamente cinque anni e secondo me è un interessantissimo stile di vino da proporre ai consumatori. Stiamo facendo moltissima ricerca in cantina al fine di migliorarli, più che altro per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche e la longevità di questi vini. I risultati raggiunti sono già interessanti, abbiamo dei vini che reputiamo essere qualitativamente allo stesso livello dei vini convenzionali con il vantaggio ovviamente che sono senza solfiti aggiunti. Stiamo facendo della ricerca, stiamo cercando di metterci del nostro al fine di migliorarli ancora di più e sono convinto che nel futuro questi vini saranno praticamente uguali ai vini con i solfiti nel senso che il consumatore farà fatica a distinguere quali hanno e quali non hanno solfiti.